I nodi delle nostre vite sono tutti problemi che portiamo molto spesso negli anni e che non sappiamo come risolvere. I nodi dei litigi familiari, dell'incomprensione tra genitore e figli, della mancanza di rispetto, della violenza, i nodi del risentimento fra gli sposi, la mancanza di pace, la gioia in famiglia, i nodi dell'angoscia, i nodi della disperazione degli sposi che si separano, i nodi dello scioglimento delle famiglie, il dolore provocato da un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato la casa, che si è allontanato da Dio, i nodi dell'alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo, i nodi delle ferite causate dagli altri, i nodi del rancore che ci tormenta dolorosamente, i nodi del sentimento di colpa, dell'aborto, delle malattie incurabili, della depressione, della disoccupazione, delle paure, della solitudine, i nodi dell'incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite. La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi perché le offriamo questi nodi e lei li scioglierà uno dopo l'altro. Come recitiamo questa novena? Iniziamo facendo il segno della croce. Poi recitiamo l'atto di contrenzione e chiediamo perdono per i nostri peccati e ci impegniamo a non commetterli più. Recitiamo le prime tre decine del rosario. Dopo la terza decina del rosario leggiamo la meditazione della novena, dal primo all'anno giorno. Poi recitiamo le ultime due decine dell'osario e terminiamo con la preghiera a Maria che sciogli noti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offendere più. Amen. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presso il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, com'era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero della gloria, contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdal e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si posa a sedere su essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne, non abbiate paura. Voi, so che cercate Gesù il Crucifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli. È risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, che scioglie i nodi, prega per noi. Nel secondo mistero della gloria, si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Detto questo, fu levato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra di voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno, allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Padre nostro, che stai nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma libereci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Sia gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Nel terzo mistero della gloria, si contempla la discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Cagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Appalvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Secondo giorno Maria, Madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di Te. Mi riconosco peccatore, e ho bisogno di Te. Non ho tenuto conto delle Tue grazie a causa del mio egoismo, del mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà. Oggi mi rivolgo a Te, Maria che sciogli noti, affinché Tu domandi per me, a Tuo Figlio Gesù, la purezza di cuore, il distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le offrirò come prova del mio amore per Te. Ripongo questo nodo nelle Tue mani, perché mi impedisce di vedere la gloria di Dio. Maria che sciogli noti, prega per me. Maria offrì a Dio ogni istante della sua vita. Padre nostro, che sia nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in Cielo e così in Terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma libera e recita il male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Nel quarto mistero della gloria, si contempla l'assunzione di Maria Vergine al cielo. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Padre nostro, che stai nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma libereci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi. Nel quinto mistero della gloria, si contempla l'incoronazione di Maria Vergine. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che stai nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma libereci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Preghiera a Maria che sciogli i nodi. Vergine Maria, Madre del bell'amore, Madre che non è mai abbandonato a un figliolo che grida aiuto. Madre le cui mani lavorano senza sosta per i Suoi figlioli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore. Volgi verso di me il Tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi. Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei Tuoi figlioli. Ripongo il nastro della mia vita nelle Tue mani. Nelle Tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Mare onnipotente, con la grazia e il Tuo potere di intercessione presso Tuo figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accoglio il mio richiamo, preservami, guidami, proteggimi. Sì il mio rifugio. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricorriamo, esoli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, volgi a noi con gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén.